... ... con grande movimento soprattutto sulla riga fatale della porta Pitontina parte il traversone, attenzione, poi aventa... ...Giruzzo la mette dentro da 8 minuti ...d'angolo la sinistra di Pellegrino e da destra del numero 16 della formazione nero verde, poi c'è una mischia in area di rigore e go del maneggio del Bindotto ... 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